Sigmund Freud, studi sull'isteria e altri scritti, 1886-1895, recensione alla traduzione di Grasso e sangue, di Mitchell. Il metodo terapeutico dell'originale medico di Philadelphia, Weir Mitchell, specialista di malattie nervose, che è riuscito a vincere forme gravi e durature di esaurimento nervoso mediante una combinazione di riposo, isolamento, ipernutrizione, massaggi e cure elettriche accuratamente regolate, è stato raccomandato in Germania dapprima da Burkhardt e l'anno scorso ha trovato pieno riconoscimento in una conferenza di Leiden. Lo stesso Leiden ha anche curato la traduzione del breve scritto sopra menzionato, il quale contiene utilissimi consigli per la scelta dei casi che si prestano al trattamento in questione e interessanti osservazioni sull'effetto curativo dei singoli elementi che compongono la terapia di Mitchell e arrecherà un ampliamento nelle conoscenze di ogni medico. Forse nella traduzione ci si è attenuti troppo strettamente all'originaria struttura inglese delle formulazioni, i termini isteria e isterico per lo più vengono usati nel senso corrente, non nel senso scientifico di questa parola così male impiegata.